mentre i discepoli erano chiusi in un posto chiamato cenacolo dopo la morte di gesù ma gesù era risorto e loro ancora non lo sapevano o meglio lo sapevano ma la paura li bloccava avevano paura di essere catturati arrestati torturati uccisi come avevano fatto gesù e mentre erano chiusi nel luogo dove si trovavano si sentì come un vento che si abbatte gagliardo potente quasi da scoperchiare le case e all'improvviso scesero come lingue di fuoco sulle loro teste e quando li raggiunsero il loro cuore si riempì di consolazione di speranza e di forza e cominciarono a parlare ciascuno nella propria lingua piena di gioia annunciando le cose del regno dei cieli e cominciarono ad annunciarle a tutti che rimanevano stupiti nel vedere che di punto in bianco grazie al dono dello spirito erano diventati coraggiosi non avevano più paura di rimanere chiusi e uscirono pieni di gioia mentre parlavano del regno dei cieli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti